L'area è contesa, via le sicure. Arricchene 2-3 in avvicinamento alla zona di lancio, portelloni aperti. Arricchene 2-3 in avvicinamento alla zona di lancio, portelloni aperti. Arricchene 2-3 in avvicinamento alla zona di lancio, portelloni aperti. Arricchene 3-3 in avvicinamento alla zona di lancio, portelloni aperti. Arricchene 3-4 in avvicinamento alla zona di lancio, portelloni aperti. Arricchene 3-4 in avvicinamento alla zona di lancio, portelloni aperti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Lancio di rifornimenti in arrivo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.